Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi, la dedica del fidanzato Pietro Rosa Perrotta all'Isola dei Famosi, il gesto d'amore di Pietro prima della diretta. Va in onda stasera 22 gennaio la prima puntata dell'Isola dei Famosi 2018, reality condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5. Tra i naufraghi sbarcherà in Honduras anche l'ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta. Prima di partire per l'Isola Felice dell'opportunità avuta ha fatto sapere di aver accettato di partecipare al reality perché ama sfidare se stessa e vuole scoprire i suoi limiti. . Ha poi aggiunto che le mancheranno i libri, la musica e la parmigiana della madre. Ma non ha menzionato in nessuna occasione il fidanzato Pietro Tartaglione. . Il suo comportamento in un primo momento aveva preoccupato i fan, ma il gesto di lui ha confermato ancora una volta quanto siano innamorati. . Solo poche ore fa Pietro ha puntualizzato di sentire la mancanza della fidanzata tramite una foto postata su Instagram, accompagnata da una dedica. . Pietro Tartaglione sostiene Rosa e non vede l'ora di rivederla. . Stasera finalmente ti rivedo, io sono lì accanto a te, come sempre, questa la dedica di Pietro Tartaglione per Rosa Perrotta. . Il fidanzato dell'ex tronista non vede l'ora di vederla su Canale 5. . Di certo la seguirà e la sosterrà durante la sua permanenza all'Isola dei Famosi. . Dopo l'annuncio della partecipazione di Rosa al reality Tartaglione le aveva già dedicato una dolce dedica, dicendo che l'avrebbe aspettata perché la sua assenza è comunque meglio di qualunque altra ragazza. . 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